Persi. Il cuore di Persi martellava più non posso mentre Crisaure camminava avanti indietro, ispezionandoli come fossero bestiame prezioso. Una dozzina di guerrieri delfino circondò i semidei con le lance puntate, mentre gli altri saccheggiavano la nave, menando colpi e facendo un gran baccano sotto coperta. Uno trasportò una scatola di ambrosia su per le scale, un altro una bracciata di dardi da balista e una cassa di fuoco greco. «Attenzione con quella!» lo avvisò Annabeth. «Farà saltare in aria tutte e due le navi!» «Ah!» disse Crisaure. «Sappiamo tutto sul fuoco greco, ragazza. Non preoccuparti. Sono eoni che deprediamo e razziamo navi sul mare Nostrum». «Il tuo accento mi sembra familiare», intervenne Persi. «Ci siamo già conosciuti. Non ho avuto questo piacere», grugnì la maschera d'oro da gorgone, anche se era impossibile capire quale fosse la vera espressione di Crisaure dietro di essa. «Ma so tutto di te, Percy Jackson!» «Oh, sì, il giovane che ha salvato l'Olimpo! E la sua fedele assistente, Annabeth Chase!» «Non sono l'assistente di nessuno!» ribatte Annabeth. «E Percy ha un accento familiare perché ha lo stesso tono di voce di sua madre! L'abbiamo uccisa nel New Jersey!» Percy corrugò la fronte. «Sono sicuro che non è un accento del New Jersey! Chi è sua...» «Oh!» Tornava tutto alla perfezione. L'emporio dei nanetti da giardino di zia Em, il covo di Medusa. Lei parlava con lo stesso accento, almeno finché Percy non le aveva tagliato la testa. «Medusa è tua madre!» chiese. «Amico, deve essere stata dura!» A giudicare dal suono gutturale, Crisaure stavolta ringhiava dietro la maschera. «Sei arrogante come il tuo antico omonimo, il primo Perseo!» commentò. «Ma è proprio così, Percy Jackson!» Poseidone è mio padre, Medusa è mia madre. Dopo che fu trasformata in un mostro dalla cosiddetta Dea della Saggezza, la maschera d'oro si girò verso Annabeth, che dovrebbe essere tua madre, se non erro. I due figli di Medusa rimasero intrappolati dentro di lei senza riuscire a nascere. «Quando il primo Perseo le tagliò la testa, saltarono fuori due figli», ricordò Annabeth. «Tu e Pegaso!» Percy sbatté le palpebre. «Allora tuo fratello è un cavallo alato, ma tu sei anche un mio fratellastro, il che significa che tutti i cavalli volanti del mondo sono miei...» «Sai cosa? Lasciamo stare!» Aveva già imparato anni prima che era meglio non farsi troppe domande su chi era parente di chi nel ramo divino della famiglia. Dopo che Tyson il ciclope lo aveva adottato come fratello, Percy aveva deciso di non voler ampliare la propria famiglia più di così. «Ma se sei figlio di Medusa, perché non ho mai sentito parlare di te?» Crisaure sospirò per l'esasperazione. «Quando hai un fratello come Pegaso, ti abitui a essere ignorato!» «Oh, guarda, un cavallo alato!» «Qualcuno vada mai a me?» «No!» Sollevò la punta della lancia all'altezza degli occhi di Percy. «Ma non sottovalutarmi! Il mio nome significa spada d'oro, per un motivo!» «Oro imperiale?» tirò a indovinare Percy. «Ah, oro incantato, sì! In seguito i romani l'hanno chiamato oro imperiale, ma io sono stato il primo a brandire un'arma del genere. Avrei dovuto essere l'eroe più famoso di tutti i tempi. Ma dato che i narratori di leggende hanno preferito ignorarmi, sono diventato il cattivo della situazione. Ho deciso di sfruttare il mio retaggio. Come figlio di Medusa avrei ispirato terrore. Come figlio di Poseidone avrei governato i mari.» «Sei diventato un pirata!» concluse Annabeth. Crisaure allargò le braccia, gesto che Percy apprezzò perché gli allontanò la punta della spada dagli occhi. «Il miglior pirata!» puntualizzò il dio. «Solco questi mari da secoli, tendendo agguati ai semidei abbastanza stupidi da esplorare il Mare Nostrum. Questo è il mio territorio adesso, e tutti i vostri averi sono miei.» Uno dei guerrieri delfino trascinò Edge di sopra. «Lasciami andare, tonno!» gridò il satiro. Tentò di mollare un calcio al guerriero, ma lo zoccolo fece solo un gran baccano contro l'armatura. A giudicare dall'impronte di zoccoli sul pettorale e sull'elmo del delfino, Edge aveva già fatto diversi tentativi. «Ah, un satiro!» riflette Crisaure. «Un po' vecchio e stopposo, ma i ciclopi pagheranno bene per un bocconcino come lui. Incatenatelo!» «Non sono carne da macello per nessuno!» protestò Edge. «Imbavagliatelo anche!» ordinò il figlio di Medusa. «Come osi, misero mostricciattolo d'oro...» L'insulto fu interrotto quando il guerriero delfino gli infilò uno straccio unto in bocca. Subito dopo, Edge venne legato come un vitello da rodeo e scaricato in mezzo al resto del bottino. Casse di cibo, armi di scorta e perfino il magico minifrigo portatile della mensa. «Non potete farlo!» gridò Annabeth. La risata di Crisaure riverberò sotto la maschera d'oro. Persi si domandò se il suo viso fosse orribilmente sfigurato o se lo sguardo pietrificasse le persone come faceva quello di sua madre. «Faccio quello che mi pare!» ribatte Crisaure. «I miei guerrieri sono addestrati alla perfezione!» «Sono malvagi, spietati!» «Delfini!» concluse Persi. Crisaure scrollò le spalle. «Sì, e allora?» «Hanno avuto un po' di sfortuna alcuni millenni fa. Hanno rapito la persona sbagliata. Alcuni membri del loro equipaggio sono stati trasformati completamente in delfini. Altri sono impazziti. Ma loro sono sopravvissuti come creature ibride. Quando li ho trovati sotto il mare e gli ho offerto una nuova vita, sono diventati il mio fedele equipaggio. Non hanno paura di nulla!» Uno dei guerrieri lo guardò nervosamente, emettendo suoni brevi e acuti. «Sì, sì!» ringhiò Crisaure. «Hanno paura di una cosa, ma non importa. Lui non c'è!» Un'idea cominciò a solletticare la mente di Persi. Prima che riuscisse a svilupparla, altri guerrieri delfino salirono le scale, trascinando il resto dei semidei. Jason era svenuto. A giudicare dai nuovi lividi sul suo viso aveva tentato di combattere. Hazel e Piper erano legate mani e piedi. Piper era imbavagliata, perciò i guerrieri delfino avevano scoperto che usava la lingua magliatrice. Frank era l'unico a mancare all'appello, anche se due guerrieri avevano la faccia ricoperta di punture di api. Frank riusciva a trasformarsi in uno sciame di api. Persi se lo augurò. Se era libero da qualche parte sulla nave, poteva aiutarli, sempre che fossero riusciti a trovare un modo per comunicare con lui. «Benissimo!» esclamò Crisaure, gongolante. Ordinò ai suoi guerrieri di scaricare Jason accanto alle balestre. Poi esaminò le ragazze come fossero regali di Natale e Persi digrignò i denti. «Il ragazzo non mi serve», disse il figlio di Medusa. «Abbiamo un accordo con la maga Circe. Comprerà le donne, come schiave o apprendiste, a seconda della loro abilità. Tutte tranne te, mia cara Annabeth». La figlia di Atena indietreggiò. «Tu non mi porti da nessuna parte!» Persi infilò una mano in tasca. La penna era riapparsa nei jeans. Gli bastava un attimo di distrazione per sguainare vortice. Forse, se fosse riuscito a mettere KO Crisaure alla svelta, i guerrieri delfino sarebbero stati colti dal panico. «Chissà quali erano i suoi punti deboli», si chiese. Di solito era Annabeth ad avere informazioni del genere, ma pareva proprio che su Crisaure non circolassero leggende. Per cui, brancolavano entrambi nel buio. Il guerriero d'oro schioccò la lingua in segno di disapprovazione. «Oh, Annabeth, purtroppo non resterai con me. Mi piacerebbe molto. Ma tu e il tuo amico Persi siete già prenotati. Una certa dea paga una taglia molto alta per la vostra cattura. Vivi, se possibile, anche se non ha specificato che dovete essere illesi». In quel momento, Piper provocò lo scompiglio di cui i ragazzi avevano bisogno. Cominciò a lamentarsi così forte che la si sentiva attraverso il babaglio. Poi svenne sulla guardia più vicina, scaraventando la terra. Eisel afferrò il concetto e si accasciò sul ponte, scalciando e dimenandosi come in preda alle convulsioni. Persi sguainò vortice e sferrò un colpo. La lama avrebbe dovuto trapassare dritta il collo di Crisaure, ma il guerriero d'oro era incredibilmente veloce. Si scansò e schivò l'attacco, mentre i guerrieri delfino indietreggiavano, sorvegliando gli altri prigionieri e facendo spazio al loro capitano per permettergli di combattere. I golarono e squittirono per incoraggiarlo, e Persi ebbe il tremendo sospetto che l'equipaggio fosse abituato a quel tipo di intrattenimento. Non avevano la sensazione che il loro capo corresse qualche pericolo. Persi non incrociava la spada contro un avversario come quello da… beh, da quando aveva combattuto contro Ares, il dio della guerra. Crisaure era a quel livello di bravura. Molti dei poteri di Persi si erano rafforzati nel corso degli anni, ma in quel momento, troppo tardi, si rese conto che la scherma non era tra questi. Era arrugginito, perlomeno contro un avversario come Crisaure. Combattevano spostandosi avanti e indietro, affondando e schivando colpi. Suo malgrado, Persi udì la voce di Luke Castellan, il suo primo allenatore di scherma al campo mezzosangue, che gli dava suggerimenti. Ma non servì a nulla. La maschera d'oro era troppo inquietante, la nebbia tiepida, le assi scivolose del ponte, gli schiamazzi dei guerrieri delfino. Niente di tutto ciò lo aiutava. E con la coda dell'occhio, Persi vide uno dei guerrieri tenere un coltello alla gola di Annabeth, per impedirle qualsiasi mossa. Tentò una finta e puntò verso la pancia di Crisaure, che però anticipò il colpo, disarmandolo. E vortice, volò ancora una volta in mare. Il figlio di Medusa ridacchiò, rilassato. Non aveva neppure il fiatone. Premette la punta della spada d'oro contro lo sterno di Persi. Ci hai provato, commentò. Adesso però sarete incatenati e condotti dai servi di Gea. Non vedono l'ora di svegliare la dea, versando il vostro sangue.